Buona giornata a tutti voi. Oggi 24 giugno è la festa, anzi la solennità, della natività di San Giovanni Battista. Già qui c'è qualcosa di interessante, che dice la grandezza di quest'uomo, di questo credente. E' l'unico santo, oltre Maria, di cui si celebra la nascita, oggi e la morte, il martirio, che sarà il 29 di agosto. Nel Vangelo si dice qualcosa di importante su Giovanni Battista attraverso il nome. Sappiamo che nella cultura semitica il nome era particolarmente importante, perché il nome in qualche modo definisce già la persona. A questo bambino neonato viene posto un nome inedito. La tradizione voleva che il nome fosse Zaccaria e chiamato invece Giovanni, un nome inedito, a dire il vero ognuno di noi. E' un inedito, oltre che un mistero. Possiamo cogliere l'unicità di tutti, come l'unicità di Giovanni Battista. E in più in questa pagina possiamo cogliere il coraggio della novità. La novità che è andare oltre la tradizione, più che contro la tradizione. Il coraggio della novità. Zaccaria ed Elisabetta hanno avuto questo coraggio. Chiediamolo a Giovanni Battista anche per noi. Lui al quale questo coraggio della novità non è affatto mancato. Auguri a tutti i Giovanni Giovanni Battista. Buona festa. Grazie.